Ben trovati, i partiti costantemente dibattono sulla stampa, primarie sì, primarie no, primarie per scegliere il candidato sindaco di Lecce, Brindisi, Taranto o di altre città impegnate al voto o il candidato alla futura premiership, intanto noi subiamo costantemente umiliazioni, non ultima, insomma quella che dal 12 dicembre di fatto le due velocità ci saranno nel nostro Paese, perché i treni non garantiranno più quel servizio pubblico necessario alle popolazioni della Puglia e del Salento, perché? Perché non ci sono i soldi, perché la regione Puglia dovrebbe dar alle ferrovie dello Stato che oggi invece si chiamano Trenitalia ed è più una società privata che una società pubblica e che quindi dovrebbe in quanto tale elargire e offrire un servizio pubblico 21 milioni di Euro, ma non ci sono, mentre poi ci sono per i vari sprechi, per le varie iniziative che non portano nulla nelle casse dei cittadini, in ogni nostra famiglia, ma dovremmo anche pensare a come rivedere complessivamente l'impostazione di questo Paese e lo dovrebbe fare il governo Monti, quello che io non discuto per capacità certamente, ma che discuto in base alla formazione di molti uomini del neo governo italiano e alla loro capacità di attrarre speculazioni, ma di questo magari ve ne parlerò domani perché si è giunti in Italia al governo Monti e in Grecia al governo Papademos. Intanto vediamo dove si potrebbe da subito tagliare. Fermo restando che dei 17 ministri, compreso il presidente Monti, il più povero percepisce all'anno sui 400-500 mila Euro e qualcuno arriva a guadagnare milioni e milioni di Euro per una propria attività, per una propria professionalità, io ho sempre detto che le indennità è giusto che ci siano perché le indennità ai politici garantiscono la libertà di questi. Certo, in questa seconda Repubblica molti non erano liberi mentalmente per cui forse abbiamo sprecato tanti milioni di Euro, però alla base sta poter garantire a qualsiasi cittadino, anche al più povero, di poter partecipare ad elezioni democratiche libere, eventualmente essere eletto e poter sopportare i costi della politica attraverso le indennità. Sapete, e voi non considerate positivamente questa mia giustificazione alle indennità dei politici, ma questi non sono politici, questi sono importanti manager, docenti universitari, professionisti capaci e ricchi. Allora per loro le indennità non dovrebbero servire, anche perché stanno servendo, così si dice, il nostro Paese per farlo uscire dalla crisi e non si devono servire del nostro Paese per essere un giorno eletti e rappresentare il popolo, anche se qualcuno sta tentando di fare le scarpe proprio a coloro che maggiormente hanno dato il battesimo al governo Monti, ossia al centro-sinistra e principalmente al Partito Democratico. Ho fatto un calcolo molto volgare, questo ve lo dico, è probabilmente poco preciso, 17 ministri, ad ogni ministro ho pensato si possa prevedere un'indennità, e sono andato per difetto e non per eccesso, di 15 mila Euro al mese. 15 mila Euro al mese per 16 mesi, più o meno quanto durerà il governo Monti prima delle elezioni e quindi della scadenza naturale nel 2013, allora 17 ministri per 15 mila Euro al mese costano 255 mila Euro al mese, nei 16 mesi ci costeranno 4 milioni e 80 mila Euro, ci saranno anche dei sottosegretari, ne ho previsto uno a Di Castero, quindi 17 sottosegretari, non a 15 mila, ma a 10 mila per velocizzare un po' i conti. Per 16 mesi ci costeranno i 17 sottosegretari 2 milioni e 720 mila Euro. Totale tra ministri e sottosegretari del governo tecnico, dei banchieri, dei docenti universitari e dei professionisti, degli uomini della Chiesa per 16 mesi costo per l'Italia 6 milioni e 800 mila Euro, 6 milioni e 800 mila Euro, essendo già ricchi probabilmente non hanno bisogno di questa indennità, ma contribuiamo ai loro costi, diciamo così, fermo restando che viaggeranno gratuitamente, che la benzina per le auto blu non la metteranno loro, che tutti i bonus che giungono di fatto ai governi arriveranno anche a loro, io faccio una proposta o sarebbe magari un loro reale messaggio di solidarietà al popolo italiano rinunciassero o si dimezzassero queste indennità, per cui magari in 16 mesi invece di costarci 6 milioni e 800 mila, potrebbero costarci 3 milioni e 400 mila e quei 3 milioni e 400 mila magari essere utilizzati per dar risposte ai cittadini italiani, invece stanno già pensando di reintrodurre lici sulla casa, che significa per ogni nucleo familiare 4, 5, 6, 100 Euro in più per ogni famiglia, vedete non cambia quasi mai nulla e intanto i parlamentari di centrodestra, di centrosinistra e di centro si beano dicendo che probabilmente usciremo dalla crisi, faccio un appello, un tavolo e una sorta di movimento dei parlamentari pugliesi e salentini senza distinzione di colore per un sit-in costante, fisso sotto la sede di Trenitalia e nei pressi di Palazzo Chigi, non possiamo permettere che la Puglia e il Salento rimanga isolata, visto che non sono stati quasi mai presenti deputati e senatori di Puglia e del Salento alle sedute di Camera e Senato, recuperassero un po' di impegno e un po' di lavoro in quest'ultima fase e tentassero, se ne hanno la forza e la credibilità, di riportare i treni in Puglia e nel Salento, a domani.